Un carissimo saluto come sempre e come sempre grazie di essere qui per scoprire ogni volta qualcosa di interessante. Desidero confermare che tutto si trova sempre qui in bella vista davanti ai nostri occhi. Questo articolo scritto sul messaggero il 14 aprile, coronavirus quarantena singhiozzo fino al 2022 e ondate fino al 2025, lo studio di scienze. Ma da chi è stato fatto lo studio dalla Scuola di Salute Pubblica Chan dell'Università di Harvard. Per coloro che hanno scaricato il documento Silent Weapons, armi silenti, si legge chiaramente che nel 1948 la fondazione Rockefeller fece un fondamento sovvenzionando una borsa di studio all'Harvard College, fondando l'Harvard Economic Research Project per studiare la struttura dell'economia americana. Ed allora tutti i risultati pubblicati e messi in opera senza possibilità di reagire da parte della popolazione mondiale viene partorito da questa struttura mascherata da università. Il titolo del messaggero afferma che si andrà avanti fino al 2025. 2025. Chi di voi ricorda il video che ho pubblicato nel 2018 prevedono la diminuzione di 18 milioni di italiani entro sette anni? Trovate il link nella descrizione. Entro il 2025 il sito Diger prevede che la popolazione mondiale diminuirà drasticamente. Solo in Italia meno 18 milioni di abitanti. Sempre per coloro che hanno letto il documento armi silenti si legge che le scuole dovranno tenere il pubblico giovane ignorante della vera matematica, dell'economia reale, della vera legge, della vera storia. Quello che desidero dimostrarvi è che il metodo scolastico è quello di studiare quello che vogliono farvi imparare. Imparate talmente tanto di quanto vogliono farvi imparare che non siete nemmeno in grado di studiare. Vogliamo dare una sbirciatina di come succede questo? Ho scovato questo video abbastanza recente pillole di astronomia EP2 l'esperimento di Eratostene. Questo signore è talmente preso a dimostrare i risultati matematici dei gradi dei triangoli che dimentica le cose importantissime oltre ad aggiungere di suo false affermazioni. Prima è l'ipotesi che il sole sia a una distanza tale che da qualunque posizione io mi ritrovi sulla superficie della terra i raggi che colpiscono la terra sono sempre e comunque paralleli tra di loro. A che distanza è il sole? Dobbiamo arrivare al 1659 perché qualcuno riesca finalmente a trovare un valore della distanza terra-sole ragionevolmente vicino alla misura corretta col matematico e astronomo olandese Christian Huygens. Infatti nel video il signore afferma che si tratta di un'ipotesi. Prima è l'ipotesi che il sole... Come è una bella ipotesi piazzare il sole a circa 5.000 km di altezza e otteniamo una bella superficie piana della terra. Prima è l'ipotesi che il sole sia a una distanza tale che da qualunque posizione io mi ritrovi sulla superficie della terra i raggi che colpiscono la terra sono sempre e comunque paralleli tra di loro. I raggi del sole sono sempre paralleli tra di loro? Quando serve a voi perché nel caso della dimostrazione dell'ombra dell'eclissi di sole osservate come si comportano i raggi del sole? Vi sembra che siano paralleli? Se in quel preciso istante io mi trovo ad Alessandria... In quel preciso istante? Come faceva Eratostene a sapere quale era il preciso istante? Aveva un bulovacutron per misurare il tempo? A questo punto mi manca la misurazione della distanza tra Alessandria e Siene e in questo caso Eratostene deve imbarcarsi in una spedizione scientifica e attraverso misurazioni molto accurate... Misura accurata? E attraverso misurazioni molto accurate riesce a trovare questa distanza che corrisponde a 5.000 stadi. Stadi? Ha provato caro signore a trovare quanto è uno stadio? Per chi ha voglia di divertirsi andate a guardarvi il video mettetevi d'accordo su Eratostene per dio terra piatta di cui trovate il link nella descrizione e scoprite perché continuano ad insegnare la distanza in stadi ancora oggi nel 2020 ma non si potrebbe mettere i chilometri? Aggiungo un piccolo assaggio e vi ricordo che attraverso l'indice alfabetico di cui trovate sempre il link in tutte le descrizioni dei video potete approfondire gli argomenti consultando le voci Eratostene in questo caso o quelle che più vi aggradano. Buona visione. Iniziamo subito da questa prima diapositiva. Distanza Alessandria-Siene 5.000 stadi che corrispondono a 890 chilometri. 890 ricordate bene. Seconda diapositiva. Distanza Alessandria-Siene 5.000 stadi che corrispondono a 925 chilometri. Terza diapositiva. Distanza Alessandria-Siene 5.000 stadi un valore che può variare da 787 chilometri a 885 chilometri a seconda di quanto valeva uno stadio. Eh sì il valore di uno stadio dipende dal valore dei giocatori ma vaffa. Quarta diapositiva. Distanza Alessandria-Siene 800 chilometri. Quinta diapositiva. Distanza Alessandria-Siene 5.000 stadi circa 787,5 chilometri dato che uno stadio è uguale a 157,5 metri. Sesta diapositiva. Alessandria-Siene distano 4.500 stadi non più 5.000 e che ogni stadio egizio è di circa 160 metri. Facciamo il calcolo. 4.500 per 160 metri fa 720 chilometri. Settima diapositiva. Distanza Alessandria-Siene distano 5.000 stadi. Uno stadio è uguale a 0,1575 chilometri. Quanto fa? 5.000 per 0,1575 uguale a 787,5 chilometri. Giusto! E possiamo andare avanti finché vogliamo e scopriremo che le variazioni sono notevoli. A parte errori madornali come questo dove sbagliano la virgola moltiplicando 50.000 stadi e si ottiene una distanza Alessandria-Siene, ascoltate bene, di ben 7.875 chilometri. Alessandria-Siene, l'ex Siene, su Google Maps ci dà poco meno di 832 chilometri. Ma non sappiamo dov'era il pozzo! Pazienza! Ma tornando all'osservazione iniziale a quel tempo, come facevano a calcolare la distanza in chilometri? Semplicemente dalla durata del viaggio dei cammelli! Ma andate a quel paese voi i libri di astronomia! Ascoltate la playlist degli audiolibri King's The Throne e aprite le vostre menti! Quindi, dopo aver preso visione di questa farsa che ci propinano e che mi hanno propinato per mezzo secolo, arriviamo al dunque. La Terra è molto molto piccola o il Sole è molto molto vicino?